Buongiorno, buon sabato mattina, iniziamo insieme la giornata come sempre sfogliando i giornali, questo è Occhio ai giornali, cari telespettatori di Fano TV che iniziamo come tutte le mattine la giornata, naturalmente voi siete probabilmente davanti al vostro primo caffè, intanto guardiamo il santo del giorno e poi le previsioni del tempo. Oggi sabato 18 aprile, San Galdino Vescovo, il sole è sorto alle 6.20 e tramonterà alle 19.55. E allora, previsioni del tempo, partiamo dalla webcam che è posta qua sopra, sopra la nostra postazione, come vedete il cielo è plumbio in questo momento, quindi non c'è molto sereno, uno spiraglio di luce all'orizzonte, lo vediamo, speriamo che si faccia largo tra le nuvole e adesso la temperatura in questo momento è di 14, quasi 15 gradi. Questa era la situazione su Fano, vediamo invece cosa ci dice la protezione civile per la Regione Marche in questo weekend, come vedete cielo parzialmente nuvoloso, in mattinata, copertura in ulteriore aumento nelle ore centrali però della giornata ci sono anche le piogge a fare la loro parte, diffuse nella seconda parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, i fenomeni potranno risultare anche più abbondanti nel settore settentrionale della Regione e come vedete la simbologia è evidente, anche per domani non c'è sole pieno però perlomeno scompaiono le simbologie relative alla pioggia, quindi precipitazioni assenti però il cielo sarà parzialmente nuvoloso in mattinata per residui e addensamenti nei settori interni. Passato il weekend vediamo il lunedì e quindi compare il sole, cielo sereno e poco nuvoloso con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi e nessuna precipitazione, arriva il lunedì e fa la comparsa il sole. Vediamo le notizie, allora oggi due sostanzialmente le notizie, l'incendio sul San Bartolo e un'altra che riguarda la politica, partiamo però dalla questione del porto in primo piano nelle pagine del resto del Carlino, la causa è una paratoia chiusa male, questa è l'ipotesi che si fa largo per la vicenda del fango che sarebbe confluito nel porto canale e qui vedete insomma che si osserva questa paratoia messa in discussione, qui casca l'aseno, il sopralluogo ieri del personale della Capitaneria e quello del Comune per rendersi conto del funzionamento corretto di questa paratoia. Allora cosa dice la Capitaneria? Permangono perplessità sulle modalità operative attuate durante le piene, altri accertamenti, campionamenti vicino allo scarico di via Cecchi ed altri nella paratoia di via Canale e quindi insomma si cerca di capire che cosa è stato a causare questo riversamento di fango così copioso nel porto canale che ha portato veramente in secca quasi tutte le barche. Continuiamo, vi dicevo la notizia, l'altra notizia insomma che è predominante nei quotidiani questa mattina, l'incendio sul San Bartolo e allora vedete le immagini dei pompieri in azione, la Capitaneria a coordinare dal mare le operazioni e i passaggi spettacolari dei Canadair che hanno fatto sì che in poco tempo si riuscisse a domare l'incendio due canadieri e appunto il loro è un intervento decisivo. Sono andati a fuoco tre ettari nel parco e l'atto è doloso. Forestale, Capitaneria, grazie a Dio non c'è alcun ferito. Una bella pagina su Pesaro in primo piano, la città che cerca di essere vivace e il centro vivace e come in che modo Pesaro Urban Graffiti. Basta con i writer selvaggi scritte sui muri senza insomma né capo né coda così il muro sarà d'artista. Il movimento dei writer è un movimento che è nato in America sulle carrozze delle metropolitane, però è una forma artistica se ben convogliata, nulla a che vedere con le scritte raffazzonate sui muri. Insomma qui c'è un esempio di come si può dare vita anche con le bombolette spray a dei fenomeni così belli come appunto il Bright. La proposta lanciata per Rocca Costanza, rimaniamo sempre a Pesaro che diventi un giardino. La proposta dall'asta lancia appunto questa idea, sarebbe un luogo sicuro per i bambini e per passare anche qualche ora in relax. Cambiamo non testata ma il luogo perché rimaniamo nel resto del Carlino ma apriamo le pagine che riguardano Fano. Bilancio di lacrime, tagli in tutti i settori. Naturalmente fare insomma la parte sostanziosa della pagina di Fano è appunto il bilancio dell'amministrazione comunale tolti 100 mila euro alla Fondazione Teatro e qui vedete l'ex sindaco Aguzzi e l'attuale Massimo Seri. Aguzzi che è stato critico sulle scelte fatte in materia di welfare e appunto Aguzzi dice la sua ricetta salvare i servizi sociali e fusione Aset a giugno. Ancora le pagine del resto del Carlino che riguardano Fano. Perseguitava la sorella è stato condannato a 10 mesi. Questa è la cronaca Stolking, zio di 35 anni non poteva vedere i nipoti. Mense scolastiche a parlare ancora del vecchio, sul maxi appalto risposte dice fumose e un pullman revisionato è stato fermato dalla polizia autostradale di Fano per degli studenti in gita scolastica e vediamo e sappiamo tutti quanti ci ricordiamo che cosa è successo a un pullman appunto non revisionato e quanto è costato in termini di vite umane la mancanza di questa pratica. Allora le spiagge sono l'altro punto dolente, la stagione estiva sta per arrivare e allora una corsa contro il tempo, super lavoro per gli operai alle prese con i danni. Delle mareggiate vedete ancora sul nostro litorale, qui siamo in Sassonia, dalla foto si capisce che siamo vicino all'anfiteatro Rastad e vedete insomma tronchi di grandi dimensioni e veramente le mareggiate hanno messo in grave difficoltà tutti gli operatori balneari. Cambiamo la testata, andiamo con il messaggero, vediamo anche qui in grande evidenza l'intervento dei Canadair, fiamme dolose, brucia il San Bartolo, anche qui vedete un passaggio a bassa quota di un Canadair, il rogo ha interessato tre ettari di Bosco. Ci sono volute sei ore per domare l'incendio. Ancora nelle pagine del Corriere di Attico per quanto riguarda Pesaro, nuovo bando per il cantiere navale, il cantiere navale è un nodo cruciale, ultimamente non si vedeva la fine di questa vicenda e il curatore però presenta l'offerta di una cordata di imprese tedesche e fanesi, quindi contratto d'acquisto, vedremo come evolverà questa vicenda. Ancora nelle pagine del Corriere di Attico apriamo quelle dedicate a Fano, CPL Concordia e Profilgas e i finanziamenti loro per quanto riguarda le campagne elettorali, Mascherin dice si impegna a integrare col divieto il codice etico e in più si impegna anche a portare in consiglio una delibera che aggiunge l'obbligo di dichiarare l'iscrizione alla massoneria e quindi insomma questa è una pagina di politica che è presente sul Corriere Adriatico di Fano e la vicenda della Profilgas e della CPL Concordia anche a livello nazionale è arrivata naturalmente. Ancora dalle pagine di Fano i bilanci, la questione dei bilanci del bilancio comunale, dal governo sono arrivati 4,5 milioni in meno, non aumentano le tasse ma solo i proventi delle multe, si è lavorato sui tagli, tutti hanno avuto tagli, tutti comparti tranne i servizi educativi, sarà ridotto, sarà introdotto il biglietto al carnevale, edifici dati in uso alle categorie in cambio delle riqualificazioni, questo è quanto si prospetta e come vi dicevo Aguzzi è stato estremamente critico su questi provvedimenti, su questi tagli e infatti dice appunto nelle pagine del Corriere Aguzzi un errore le penalizzazioni del welfare. Ancora nelle pagine dei quotidiani stamattina però siamo al messaggero di Pesaro che mette in grande evidenza la politica e quindi la questione delle regionali che fra poco più di un mese si terranno, il centro-sinistra non c'è più, sottoscritto l'accordo tra Marche 2020 e Forza Italia, spacca, non ci sono io che me ne vado, questa è la sua dichiarazione, i 5 Stelle scelgono Montelabate per la scalata alla regione. Anche qui la fotonotizia del passaggio sul San Bartolo dei Canadair che ha naturalmente attirato anche l'attenzione dei curiosi e qualche foto perché in azione sono veramente spettacolari, spunta appunto una nuova offerta per il cantiere navale, anche nelle pagine del messaggero viene riportata questa vicenda e appunto le prime indagini però la questione del porto non risolvono il porto insabbiato, il giallo del porto insabbiato, qui nelle pagine del messaggero si dice che le paratoie funzionavano ma l'indiziato comunque resta il fiume Foglia. Il comandante della Capitaneria dobbiamo allargare gli accertamenti, le barche saranno spostate nella Darsena. Ancora da Pesero e Rubino una questione legata al lavoro che viene evidenziata nelle pagine dedicate appunto alla provincia, esplode il precariato, raddoppiati in un anno i voucher per il lavoro, ticket riscuotibili dai tabaccai, sono diventati quasi 700 mila in un anno per un totale di 7 milioni di euro, naturalmente lancia un'allarme la CGL perché c'è un uso smodato e quindi di questi voucher che rappresentano una soluzione in tanti casi per tanti lavori occasionali o precari, però insomma sono il sintomo che sicuramente qualcosa a livello occupazionale non va bene. L'ultima pagina che prendiamo in esame è quella di Fano del messaggero, controlli nei locali e bagnini filmati, la movida di stagione parte in salita, folla alla festa dell'apertura dello sciare del mare, uno dei locali più noti della nostra riviera, fa il pienone ma arrivano gli ispettori del lavoro e a esprimersi sul ripascimento delle spiagge Eosi con Fartigenato perché i concessionari sono stati un po' ripresi, aditati come dei criminali, mentre livellavano le spiagge, c'è una delibera a livello regionale che crea qualche problema in termini di elasticità e di facilitazione di questo ripasciamento delle spiagge. Insomma, pastoie burocratiche Eosi con Fartigenato punta al dito sulla burocrazia che in tanti casi crea qualche problema. Ultime due cose che vi segnalo, sopralluogo alla Paolini, la Paolini, la caserma Paolini si riapre la trattativa con il Demanio, ieri c'è stato un sopralluogo da parte di Massimo Seri accompagnato dalla direzione regionale dell'ente che si occupa dei beni statali. Stiamo verificando Bellocchi entro dieci anni, l'asse 2, l'asse nella zona industriale di Bellocchi e il Consiglio Comunale approva l'accordo con Mondolfo dopo il distacco con Marotta. Bene, questa era l'ultima notizia che vi proponevo per questa rassegna stampa di oggi sabato, come sempre tornerà però lunedì mattina alle 7.30 puntuale e questa sera vi ricordo l'appuntamento con le notizie, il Tg alle 20.30. Buon sabato e buon weekend a tutti voi! Grazie!